ciao le batterie e ciao bentornati siamo circondati dalle uova di pasqua eh sì perché non dobbiamo perdere tempo esatto a pasqua manca ormai poche settimane pochissime comunque ragazzi sì pasqua sta arrivando è ovvio che le recensioni che dobbiamo fare devono cominciare presto così avrete già fame a colina in bocca esattamente no abbiamo preso un po di uova di pasqua perché nei negozi già si vedono le uova di pasqua non si vede più la pasta il sugo i surgelati la carne le uova di pasqua ci sono quindi siamo andati a prendere le uova di pasqua anche quest'anno faremo una serie che l'anno scorso è andata molto bene grande successo esatto quindi faremo le recensioni non soltanto alle uova quelle di marca con le sorprese con le licenze con i cartoni animati con ma anche quelle diciamo da un brand più basso discount quello un po più a mercato l'anno scorso devo dire abbiamo avuto delle gran belle sorprese assaggiando delle uova di pasqua che costavano anche meno di 2 euro abbiamo trovato della cioccolata di qualità e delle belle sorprese delle belle sorprese quindi abbiamo deciso di farlo anche questa volta nel video di oggi quindi come se vi piace la cioccolata vi piace vedere dentro le uova di pasqua mettete like a questo video iscrivetevi anche al canale ma oggi cominceremo non soltanto con le uova poracce oggi faremo ricchi contro poveri quindi un uovo di licenza quindi che abbiamo pagato 7 euro e 99 contro appunto un uovo da 1 euro e 99 vediamo che succede ora togliamo tutto e andiamo a vedere quelli che dobbiamo fare oggi allora questo è uno e questo è l'altro ed è l'uovo dei me contro te contro l'uovo del tuo di questo l'ho preso al tuo di caldo tradizioni extra fondente questo è invece a latte questo è della dolphin abbiamo assaggiato già tantissime uova della dolphin e devo dire che il cioccolato del dolphin mi piace molto le sorprese in genere sono carine quindi questo è un uovo su cui io faccio un buon affidamento questo l'avevamo forse già assaggiato non mi ricordo non mi ricordo vediamo vediamo se regge il confronto io vado con quello da ricchi vai no dai non potrei mai lasciarti così tu aprirai questo e io mi apro quello tra virgolette foraccio personalmente mi preferisco il cioccolato latte ecco per quello che te l'ho fatto assaggiare sì perché io preferisco allora faccia tutto lo scotch dunque ah tanti auguri allora il mio ha già fatto molto bene perché ha il laccetto quindi io lo aprirò in invece c'è lo scotch e dovessi aprirlo basta una forbicina insomma si tira comunque lo scotch c'è un lembo se tu lo cerchi bene non è uglie non hai neanche gli occhi perché tu lo trovi il bordo e non c'è ma che stai a dire ma non è un scotch ce la farò non preoccupate prima che l'arriere medie ce la farò oh dai figlio bene allora come grandezza è già vinco io andiamo a vedere quanto pesava no vedi un po quant'era il tuo peso il mio pesa 250 grammi devi prendere la fischetta 220 grammi ah quindi ho 30 grammi in più di cioccolato rispetto al tuo sì ok niente ringrazio tutto scegliamoci la carta lasciamo la pronto pronto una botta secca uno due tre una pallina aspetta vediamo prima la mia di sorpresa poi vediamo la tua allora che cos'è ma che è allora io trovo una specie di girasole è una specie di fiore con questo affarino qui credo che sia un launcher una trottola allora vedo che c'è un incastro perché non capisco come funzioni perché allora questo non c'è niente allora aspetta devo capire devo questo si deve incastrare qua dentro esatto questo si spingerà sì ma se non incastro non c'è una carica quindi quindi e che bisogna se vuole stai mangiare spingi vai sì attiva aspetta devi dargli la carica brava così così bella bellissima no ma è bellissimo cioè ma beh ma è bestia allora va caricato più lo carichi forse più dopo ci ho messo mezz'ora a capirlo però adesso è diventato più tosto e a questo punto facciamo la prova empirica vado eh è bellissima ok era una trottola con le luci e mi sembra fighissima facciamo la cioccolana facciola un pochino anche se è fondente dimmi il tuo parere molto buona è buona molto molto buona quanto cacao c'è? cacao minimo 51% quindi direi che è un buon fondente perché in genere le fondenti trovano anche al 46-45% tu invece quello di Me Conto Te hai trovato? pallina Me Conto Te mentre lui faceva pallina lì dietro di noi sul divano una cagnetta una cagnetta non è per te questa è una pallina morbida se noi ti la regaliamo tu la mastichi in 5 secondi cioccolato è una pallina morbida un po' anti stress grazie cioccolato latte e cacao 30% 30% sì nella norma buono anche questo nella norma decente allora la pallina è tipo anti stress con il logo voi non mi ne zira ma è attaccata cioè vorrei farvela vedere è tipo incollata al tavolo cosa c'è qui? cosa c'è? è una pallina è voi tiratemi la pallina vi prego no non te la posso dare la spasci con la scritta me contro te ok come tipo di sorpresa io vado per l'uovoraccio anch'io ok forse abbiamo beccato una sorpresa non tanto carina è una pallina quindi vabbè uno se la può tirare questa è carina da tirare tipo in piscina in spiaggia come se la tira uno con l'altro oppure secondo me sai con cosa si può con i racchettoni esatto secondo me questa è una pallina ideale per giocare a racchettoni è di quelle molto leggere quindi sulla spiaggia non uccide il vicino di ombrellone quindi è una pallina diciamo che deve essere utilizzata per quello secondo me tutto sommato rispetto ad altre sorprese va abbastanza bene però nell'espositore non ti ricordi c'erano altre cose sì mi pare i portachiavi o altre cose sempre dei miei contro te quindi ci sta come tipo di cioccolato io sono di parte perché piace di più il fondente però secondo me ho trovato questo nettamente superiore il cioccolato al latte ma vi dico questo qui è veramente ottimo non mi dispiace per niente assolutamente beh questa si sta leccando i baffi e tu è una cioccolata no tesoro c'è Zira che ci guarda come per dire umida della pallina umida del cioccolato tesoro la cioccolata ti fa malissimo e anche la pallina la distruggeresti quindi mi dispiace ma per te oggi mai una gioia bene fateci sapere che cosa ne pensate quale uovo vi è piaciuto di più devo dire entrambi ci hanno soddisfatto esatto questo costa di più ovviamente perché comunque si è della dolfine ed è logato a una licenza quindi comunque si ha dei personaggi questo non avendo personaggi ha un prezzo inferiore però devo dire che 250 grammi di cioccolato è una sorpresa veramente carina devo dire che possono far piacere chiunque lo diceva bene ci vedrete ancora con le uova di Pasqua perché ne abbiamo alcune anche particolari con percentuali di cacao più alte oppure con le nocciole eccetera sempre a prezzi molto molto low cost quindi se avete voglia di vedere anche un pochettino non so di sparmiare e trovare comunque sia qualcosa di diverso esatto continuate a seguirci iscrivetevi al canale se vi siete divertiti mettete un like se avete fame e volete cioccolata avete visto il video quindi non è colpa nostra quindi noi adesso dobbiamo nascondere questa cioccolata altrimenti ce la mangeremo tutta come che fassi Emanuele no allora salute ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi non è una pallina no non è la pallina è una trottola la pallina non te la posso dare non mi guardare con quella faccina grazie a tutti grazie a tutti